Grazie alle pregevoli prestazioni di lunedì e martedì scorso contro le formazioni di Napoli e Roma, il Cus Caserta proda per il terzo anno consecutivo agli ottavi del campionato universitario. Si tratta della competizione che ogni anno permette agli studenti universitari, che generalmente già praticano calcio a 5 nelle varie categorie, sia regionali che nazionali, di disputare un vero e proprio campionato per l'assegnazione di uno scudetto che proprio i casertani l'anno scorso hanno mancato sul filo di lana. Al Palanoia di Marcianisa, i uomini di Guido Ventimiglia hanno eliminato dapprima il Cus Napoli per poi affrontare il giorno seguente il Cus Roma. La finale del quadrangolare ha eletto Giglio Fiorito e compagni, che hanno battuto il foro italico, passando bene in vantaggio con la doppietta di Laurenza e resistendo al rientro dei capitolini con Ciuccio Vino, chiudendo il primo tempo sul 3-1 grazie alla rete di capitano Giglio Fiorito. La partita però non si è chiusa tanto facilmente, con la grinta e la voglia di giocare che hanno caratterizzato la prestazione romana. In avvio di ripresa infatti è arrivato il gol che ha accorciato le distanze, portando l'emozionante match sul parziale di 3-2. Da quel momento in poi le squadre si sono allungate ed il gioco casertano ha assunto maggiore efficacia. L'1-2 tra Giglio Fiorito e Crispino e Valso il 4-2, poi generoso Schall, ha calato la manita con la quinta rete targata Marcianise. Il portiere di movimento è sembrata l'ultima carta da giocare ai romani, che tuttavia sono stati puniti oltremodo subendo le marcature ancora di Giglio Fiorito e del portiere Carusone. Il 7-2 finale ha premiato dunque il maggior tasso tecnico dei campani, che dal 20 maggio rappresenteranno la città di terra di lavoro alle finalette di Messina. Grazie a tutti.